è partita? un attimo scusatemi era il video scorso che era durato ben 16 minuti e quindi l'ho cancellato così per dare un po' più di spazio comunque benvenuti su Turbo Dismount se vi siete chiesti perché non l'ho portato negli scorsi lunedì è perché sono pigro, ma proprio, ma proprio pigro e quindi mi sono ripreso con il video della top 10 peggiori mi della CPU e partiamo con una bella mappa Eat the fun! questa è sempre la mappozza di eccellenza nei video di Turbo Dismount ecco vedete abbiamo Pietro abbiamo uno dei momenti più iconici della nostra infanzia e iniziamo aspetta voglio scegliere il veicolo scegliamo la Bandit va? ok andiamo guarda va via va via ah inoltre non mi ricordo manco a che episodio eravamo arrivati non lo so comunque la nostra dove sei finito? aspetta ah eccoti scambiamo la posa no Royal Ignace mettiamo che è la Royal Ignace? attenzione ah uff bel colpo di testa che però non danneggia solo la testa è andata via controllerò un attimo allora usiamo il divano va? uh parte 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 speriamo bene speriamo perché vai a... vabbò prossima mappa The Getaway una delle mappe più iconiche allora cerchiamo di fare bene andiamo a vedere se riusciremo si è durato meno di un match di Goldberg e questo... ma vaffa... ma vabbia mi sa che mi investe attenzione forse no e vabbò sono stato quanto sono stato e mi si sta anche staccata sul testo sulla testa nice a proposito cambiamo la testa chi mettiamo? mettiamogli quella del trenino è troppo bello ma che cavolo già possiamo fare la polizia si è investita da sola mentre noi cerchiamo di trovare un veicolo meglio il Magnum dai farcela 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 uff mi è volata la testa dai speriamo bene speriamo uff proviamo proviamo con un altro dai uff un bel investimento io direi di cambiare livello perché aspetta forse proviamo con la Lance allora dobbiamo far partire nel momento più giusto momento guarda ho fatto cadere un cantiere passiamo al prossimo figure scrapping il livello più bello del mondo se solamente questi hanno esso bene andiamo a vedere se se il nostro twerkatore riuscirà almeno a durare non abbiamo niente di interessante oggi small chase dai proviamo con questo uff backflip dai dai speriamo speriamo che almeno ci sia qualcosa di interessante uff oggi i veicoli non vogliono fare bene ragazzi oggi turbo dismount non è interessante come adesso aspetta proviamo un'altra cosa poi poi cambiamo gioco big air combo allora ho scoperto essere compo e non compo yes è andato salutiamo turbo dismount ok allora jackie chan o fates clan allora devo dire non c'è speranze fates clan no wayne grez boh io non lo so refugee crisis ma ma chi se ne frega ma chi se ne frega che cosa sono le sigarette delle sigarette a forma di embo non lo so proviamo a battere il nostro record ci abbiamo fatto per il ritorno a scuola ma voglio fare il serio povertà di meno ok dai cavalier king mi sa molto di più di povertà dai profiteroles yes orlando magic mi sa di molto di più yes i wonder ho cliccato ah no daft punk mi sa molto di meno key kong di meno usain bolt vabbò moltissimo pensione mhm hp mhm gerusalemme mi sa di meno ciao israeliani che ve la prendete con me michael bay oh il nostro carissimo il nostro questo tipo i sette samurai non ce ne frega lionel rici vabbè adesso inizio i problemi meni pacquiao ah ok ok rigiochiamo michael schumann cero bamba dorgio mi sa mo he he infatti le mau cantas non è 69 vabbò johnson n johnson mi sa molto di meno iphone x un bottiglio tipo alla co alla luna no dai perché mi metti proprio samsung di meno erano pari che sedere che sedere il maccio piccio di meno vanus gaming di meno ok la pillola di meno ok new england patriots mi sa molto di più non ce ne frega ciao ciao triple h spero che ti spero quando faremo l'handicap ladder match con te con te con i capelli con me hollywood e il mio assistente raffaele hollywood che schifo ma sarebbe un buon match pampers sei stupido dai rigiochiamo e facciamo bene non ce ne frega brian adams mi sa molto di più del petra il flamengo molto di più perché hanno messo una squadra di calcio non lo so eroina le supreme mi sa molto di meno april la giraffa non so cosa sia ma mi sa molto di più mi ricordo boris baker mi sa di meno meditazione oh uff 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 gran canyon rischio si mi ricordo che erano 800 algebra algebra di meno boing mi sa di più di poco è di poco pistola di meno essendo una famosa arma gli occhiali da sole molto di più ok le pulci chi cerca le pulci si si erano pulci addizioni da droghe ma vattene via ero ok di più ma proprio di poco ah uff ehm allora trapianto di capelli o green peace oh no già già partiamo a green peace ah finalmente hotmail di molto di moltissimo la nasa di un po' così billy joel ovviamente di meno di meno american express outlook di moltissimo tipo al miliardo dyson non ce ne frega perché outlook domina nelson mandela quant'era io direi di meno sono pari che sedere che sedere geocaching io direi di meno ah sì perché ha avuto un cambiamento salmone affumicato di meno ma di benissimo cristoforo colombo di molto sì ha scoperto la mia rivale casablanca oh che che sedere la salmonella di meno oh yes making a murder ma va via che non ce ne freghi yes pavonur mi vattene we sports ovviamente un sacco nonno carlo perché ci fai ancora qua non dovevi andarti a riposare dopo aver corso un sacco di metri a we party you vabbò la siria di molto di we sports il pianista di meno fruit ninja un botto ok vabbò come si chiamava non mi ricordo che cosa non mi ricordo povertà come abbiamo visto moltissimo del coso grit dan oh yes runner e vabbò ma questa la cercano in pochissimi si buyer ovviamente molto anche se di poco beach volley beach volley yes ok potremmo battere il record paramount pictures sono pari yes oliver corromwell ok sta andando bene serengeti di poco di 25.000 suicidio un botto un foto us open di molto yes possiamo batterlo possiamo batterlo indie non se ne frega nessuno e infatti la fedez un botto anche se di solo 7 milioni anche se ikea è di un fottio rolex ok rolex sta andando tutto bene super bad chi se ne frega chi se ne frega chi se ne frega epilessia sono pari che sedere che sedere che sedere andrea pirlo lui mi ha sempre fregato in questa scalata silver oh yes yes possiamo batterlo possiamo batterlo skrillex di molto 3 sergeant chi se ne frega anche se adesso 3 2 1 golden state warriors un bottiglio taiwan boh non lo so ma mi sa di meno ok possiamo batterlo ok c'ho l'ansietta devo concentrarmi manco stessi facendo una coppia su tomodachi life taylor swift di più di janet jackson ok dobbiamo cercare di dobbiamo non lo so che cos'è ma mi sa molto di più infatti inside out dai ce la dobbiamo fare ce la dobbiamo fare ce la dobbiamo fare dobbiamo farcela stevie wonder mi sa di più di questo tipo siamo a 50 siamo a 50 non lo dobbiamo perdere dobbiamo perdere ce ne mancano 10 ce ne mancano 10 poi mi fregherà mi sa victoria secret mi ha fatto perdere una volta e io non so salario minimo sono pari attenzione ce la sto facendo germania di più ce la dobbiamo fare putin di meno ok siamo siamo a poco per le aziende e i professionisti il cloud significa potenza rispar maledetta scherma mi fregato adesso io ragazzi io vado a piangere venendo fregato dalla ferma dalla scherma e ci vediamo al prossimo video ciao ciao